Lo scorso 16 agosto ho avuto un confronto cordiale con i vigili urbani di Agropoli intervenuti presso il locale sito al porto turistico. Replica così il consigliere di minoranza Gisella Botticchio in merito alla querela dei caschi bianchi. Ho grande stima delle forze dell'ordine, probabilmente quella sera erano stanchi. Io ho dato solamente un consiglio. Stima e rispetto per le forze dell'ordine tutte, dai carabinieri, finanza, vigili urbani soprattutto, ho avuto sempre un rapporto cordiale e l'ho avuto anche quella sera il 16 agosto, passata qualche minuto alla mezzanotte dove loro si sono avvicinati. Io ero presente con mia cugina e altri amici, quindi mi trovo pure per caso, però come si dice, come istinto di consigliere, ecco, di consigliere nel rispetto delle forze dell'ordine, proprio perché ho avuto fiducia in loro, mi sono avvicinata per dirgli un po' di tolleranza perché vedevo gente che lavorava. Quindi c'era veramente un incanto. Qualcuno presente ha detto, vabbè, fra poco finirà l'incanto, ha detto un signore, che ora non mi ricordo. E qual è? No, dice qua, normalmente vengono i vigili dopo la mezzanotte. Ho detto, ma no, ma non sarà mai un locale così bello e che tranquillo. C'era un po' di musica perché loro fanno ogni tanto quelle serate. Dicono, no, eppure, e io li ho visti poi arrivare veramente. Mi sono avvicinata, ho detto, madonna mia, ma dico, questi dovranno pagare i camerieri, il barman, cioè, che facciamo? Buttiamo tutto all'aria e quindi ho chiesto, forse ho implorato, loro probabilmente erano stanchi, mezzanotte, 16 agosto, lavoravano forse tutta la giornata e la loro stanchezza probabilmente ha fatto sì che hanno avvertito questo mio, diciamo, consiglio. Perché sì, devo dire la verità, come difendo l'attività di mio figlio, difendo il bar, difendo tutta la città. In quel caso ho difeso quell'attività che lavorava veramente bene. Mi dispiace per i vigili perché penso di essere stata cordiale come sempre e non ho problemi io. Anzi, il comandante mi invitò pure alla festa di San Sebastiano dove io partecipavo in chiesa e quindi ho un rapporto molto, molto cordiale. Quindi è stata, come si dice, un tuono a ciel sereno. Non lo so, può darsi, non lo so. Perché hanno avuto questo atteggiamento? Penso che erano stanchi.